Ehi, Lulu, per caso hai visto Simone? Preso, tocca a te! Tanto non mi prendi, Ferdinando! Aspetta e vedrai, Simone! Io sono troppo veloce! Non mi prenderai mai! Na-na-na-na-na-na! Ehi, tutto bene, Simone? Devi esserti fatto male davvero tanto! No, sto bene! Sono in forma super smagliante! Facci picchia, ti è venuto un bernoccolo davvero enorme sulla testa! Oh, è enorme! Super, super, è enorme! Oh, no! Oh, povero Simone, sei caduto! Ti sei fatto male! Solo un po', ma sto bene, maestra! Oh, hai un bernoccolo sulla testa! Ascolta, ora telefona la tua mamma! Magari viene a prenderti per portarti in ospedale, per essere sicura che tu stia bene! Oh, ti portano in ospedale? Oh, ma sarà terribile! Ti faranno tirare fuori la lingua! Ti guarderanno dentro la testa e ti guarderanno dentro e alla fine ti rimarrà una cicatrice enorme! Dici un sacco di stupidaggini! Sì, Ferdinando, sono tutte sciacchezze! No, è la verità... Simone! Coraggio, Simone! Tua madre arriverà a momenti! Ricorda non permettergli di guardare dentro la testa! Oh, mamma, mamma! Simone! Oh, tesoro, stai bene, piccolo? Accidenti, hai proprio un bel bernoccolo! Sì, ma non mi fa male! Quindi non è inutile andare in ospedale! Oh, è comunque molto grosso, quindi è meglio farlo vedere a un dottore! Ma non preoccuparti, non c'è motivo di avere paura! Ma io non ci voglio proprio andare in ospedale! Attenda lì! Il dottore sarà da voi a momenti! Mamma, credi che mi guarderà dentro la testa? Credi che mi resterà la cicatrice? Certo che no! Chi ti ha detto queste cose? Nessuno ti guarderà dentro la testa! Oh, invece sì! Guarda quel signore! Gli hanno guardato dentro la testa! Simone? Sto cercando un piccolo paziente di nome Simone! Ah, sono io! Ah, adesso tocca a te! Devo farti una visita! Vieni con me! Non ti preoccupare, non ti farò assolutamente male, giovanotto! Dobbiamo fare solo una serie di prove!